Complessivamente rispetto al 2007 c'è tutta una serie di dati che per la prima volta cambiano segno, cioè si passa da meno a segno più, ma sono accompagnate da uno zero virgola, quindi assolutamente insufficienti per poter dire di farci dormire sogni tranquilli. 8,3 miliardi di euro, questo è il PIL della provincia di Arezzo secondo le stime di Prometeia. Un più 1% rispetto al 2016, ma non siamo ancora fuori dalla crisi. Sono i numeri diffusi dalla Camera di Commercio di Arezzo in occasione della consueta giornata dell'economia. Non sono dei dati granché positivi, soprattutto dal punto di vista del lavoro, che è la cosa che ovviamente ci riguarda e ci interessa più da vicino. Infatti il tasso della disoccupazione è aumentato rispetto al 2016 di un 0,5%. Non soltanto, anche il numero delle imprese scritte nel corso dell'anno 2017 all'interno del registro imprese della Camera di Commercio è per la prima volta dopo qualche anno di positività negativo. Ha chiuso numericamente di 16 imprese, ma se poi andiamo a sviscerare i dati vediamo che hanno chiuso imprese importanti che davano dal punto di vista numerico un'occupazione nel nostro territorio importante. Quindi una situazione direi piuttosto stagnante, paludosa, preoccupante per il nostro futuro. Piccoli passi in avanti sul fronte turistico, la provincia di Arezzo ha sfondato la soglia dei 500.000 turisti raggiungendo la cifra di 1,4 milioni di pernottamenti nel 2017. La crescita rispetto al 2016 è stata di 14,3% in termini di arrivi e 6,7% in termini di presenze. Una pista di lavoro straordinaria dove riteniamo si possa bene investire, ovviamente non trascurando la componente manifatturiera che nella moda, nei settori tipici del made in Italy che si proietta verso l'estero va ancora abbastanza bene visto che fa segnare un più 10% di export per i tipici settori, ripeto dalla moda all'agroalimentare di qualità a tutto quello che è l'aggregato relativo alle produzioni tipiche, anche alla gioielleria che fa segnare un più 5% di export. Altro discorso che rileviamo dal rapporto è il mercato interno, questo è ancora abbastanza flebile quindi i consumi non sono velocissimi e quindi anche gli esercizi di vicinato, l'artigianato che opera sul mercato domestico ha ancora purtroppo diverse difficoltà.